Felicità. Vi racconto una storia. La storia è questa. Coloro che si occupano come me di happiness studies, di studi sulla felicità, hanno scoperto molto tempo fa che la percentuale dei nostri connazionali, che si dichiara molto felice, è stata per tanti decenni una percentuale fissa, intorno al 39%. Quasi 4 italiani su 10 sottoposti alla domanda, lei quanto è felice, facendo un bilancio della sua vita? Me lo dica per favore con un voto, da 1 minimo a 10 massimo. Circa 4 italiani su 10 indicavano voti 8, 9 o 10. Se aggiungete un altro 20% che tradizionalmente si dava un voto 7, si smentisce la tesi che l'Italia abbia smesso di essere un paese positivo, perché per tantissimo tempo circa il 60% degli italiani si è definito discretamente o molto felice e appunto quasi il 40% molto felice. E questo tasso di felicità dichiarata era stabile nel tempo, non era relativo al ciclo economico, saliva o scendeva il PIL, saliva o scendeva il reddito delle famiglie, saliva o scendeva il tenore di vita, ma gli italiani che si dichiaravano felici erano sempre la stessa percentuale. È successo poi qualcosa e questo qualcosa è successo in un momento specifico, nel primo trimestre del 2011. Nel primo trimestre del 2011 improvvisamente è crollata la diga, avete presente le dighe olandesi dei polder, è venuta giù. Il bambino prima teneva, come nella favola, il dito nel buchino in attesa di soccorsi, poi il bambino ha deciso di andarsene e il mare ha invaso un pezzo di Olanda. E si è perso nel giro di pochi mesi un quarto degli italiani che si dichiaravano felici. Una catastrofe in senso stretto, in senso tecnico, una discontinuità che per noi ricercatori sociali è stata subito, è apparsa subito drammatica. I motivi. Certo, la crisi economico-sociale, un dato dell'inizio di marzo, ci dice che un campione rappresentativo di italiani dai 18 anni in su, dunque adulti e anziani, si lamenta di come vanno le cose a lui intervistato o a lei e ai suoi cari ancora nella misura del 72%. La condizione materiale è giudicata negativa o addirittura drammatica da quasi 3 italiani su 4. Ma non è stato, contrariamente a quel che molti pensano il motivo principale. Il principale motivo è stato di carattere psicologico e culturale. Abbiamo perso il nostro ottimismo tradizionale. L'Italia è stata a lungo un paese in cui l'ottimismo, la fiducia nel futuro ha autoriferito a breve. Termine noiosissimo che vuol dire come crede che andranno le cose a lei e ai suoi cari nel prossimo anno. Ottimismo riferito a sé, ai propri cari, a breve termine, a un anno. È sempre stato molto elevato. Io ho cominciato a fare ricerche nell'ottanta e allora scoprì che la percentuale degli ottimisti era intorno al 66%, due terzi. E grosso modo è rimasta stabile. Oggi siamo in una condizione rovesciata. Pensate, all'inizio di marzo il 62% dei nostri connazionali adulti dichiarava nel prossimo anno, cioè da lì alla fine di febbraio, da quel momento alla fine del febbraio del 2015, a me, ai miei cari, io prevedo, io suppongo, io ipotizzo, che le cose peggioreranno. Il nostro principale problema collettivo è la malattia del futuro. Il futuro si è ammalato, come ha scritto uno, spirituoso su un muro, c'è documentazione fotografica, il futuro non è più quello di una volta. Frase, peraltro, che ha ascendenti letterarie. Non si sa bene il primo che l'abbia detto, ma fa parte della creatività collettiva, a cui ci ha richiamato Pasquale D'Affia aerea, il fatto che si reinventa cose che erano già state inventate. Si chiama saggezza collettiva. Ebbene, il furto di futuro che hanno subito i nostri giovani, ma anche gli adulti e molti anziani, è stato drammatico. E poi, per finire, ma poi passo dopo il bastone alla carota, non preoccupatevi, non verranno distribuite pistole per il suicidio in sala, per intenderci, però un po' di analisi impietosa può essere utile. Guardiamo in faccia la realtà, con le lenti abbrunate e il sole, come durante l'eclissi, non neghiamo la realtà. E questa malattia del futuro è anche stata legata a dei vissuti collettivi, che mi è capitato analizzare, che sono non capisco più niente. 67%, 2 su 3, l'illegibilità della realtà. Ho perso controllo sulla mia vita. Non ho più autogoverno. Sono stato espropriato, 3 su 4. È diminuita l'autostima degli italiani, di un quarto. È cresciuta, più che raddoppiando, dal 2008 più 111%, più che raddoppiata, la dichiarazione di «vivo una vita fortemente stressante». vero o no che sia, nel mio mestiere non si raggiunge mai la verità, nel migliore dei casi ci si avvicina alla verità del dichiarato, forse alla verità del vissuto. Non mi sento più protetto. Le pensioni, l'assistenza, le cure. Drammatico. Insomma, tutta una serie di cose, chiamiamoli così, di fenomeni che hanno aumentato straordinariamente la depressione collettiva. Da un paese mediterraneo, mediterraneo anche a Bolzano, per intenderci, non solo al sud, a un paese che è caduto in una profonda, drammatica, inedita depressione collettiva. Eppure, il titolo del mio spice è «Felici malgrado, seppur diminuiti di un quarto, coloro che si dichiarano molto felici, vi ricordate voti 8, 9, 10, in una scala da 1 minimo a 10 massimo, sono comunque tanti, quasi il 30%. Se volete una notizia dell'ultima ora, da 2-3 mesi stanno lentamente risalendo. Il che è un dato positivo, almeno per un analista sociale, lentamente risalendo. Allora, la domanda che noi ci siamo posti è «Ma come hanno fatto milioni e milioni di italiani a dichiararsi molto felici, malgrado?». Malgrado questa situazione che ho sommariamente delineato, ma che non ne ho dubbio voi ritrovate nella vostra esperienza personale, o almeno nell'esperienza di tante delle persone che incontrate o di cui sentite parlare. Ecco, a me questa domanda affascina. affascina perché, vedete, per mestiere come altri giro il mondo e vedo o faccio anche ricerche in molti paesi del mondo, tra l'altro le web research, le ricerche via internet, hanno aumentato la nostra capacità di ricercatori di un solo paese, in questo caso l'Italia, di avere rapidissimamente, a costi molto decresciuti, informazione pressoché su tutto il pianeta. Cosa vediamo? Cosa vedo come esperienza di ricercatore, di persona che intrattene rapporti, che va all'estero, eccetera? Che all'estero la pensano in maniera completamente diversa. ci invidiano nella convinzione che qui in Italia si viva benissimo, che questo sia un paese di felicità diffusa. E non mi riferisco solo al design, al fashion, alle tradizioni enogastronomiche, ai piaceri della vita. No, a qualcosa di più profondo. Una ricerca fatta dall'Eurobarometro, un'istituzione pressoché ufficiale dell'Unione Europea, mostra che l'Italia è sempre stata, e continua ad essere, ai primissimi posti, qualche anno al primo posto, in una curiosa classifica. Quella delle risposte alla domanda ma lei, se non fosse nato in Polonia, Austria, Germania, UK, eccetera, dove vorrebbe essere nato? L'Italia. Italia disprezzata, eh? Per la nostra illegalità, la nostra confusione, il nostro barocco e incomprensibile sistema politico, la nostra inaffidabilità. Se un'impresa italiana esportatrice, ce ne sono tante anche qui in provincia di Bergamo, consegna puntualmente, dicono, sono italiani, ma hanno consegnato puntualmente. Ma, ma hanno consegnato. Malgrado alcuni livelli, avrei una parolaccia sulla bocca, ma lo dico in inglese per eufemismo, di calo della reputation, no? o di bassa reputation, noi siamo ritenuti un paese di gente che si sa godere la vita, che sa essere felice. D'altra parte c'è un'altra ricerca, sempre di Eurobaremo, di qualche tempo fa, in cui è stato chiesto a gente dai 40 anni ai 60 anni, in tutta Europa, compresa i nuovi paesi dell'Unione Europea, ma lei, dove le piacerebbe andare nel suo retirement, diciamolo andare in pensione, anche se non tutti hanno l'Italia, primo posto. Una volta c'era il Chianti Shire, adesso c'è il Salento, le città d'arte. Allora, la domanda che mi faccio, e che occuperà la seconda parte dell'intervento, è ma perché gli altri reputano che esista? Lo dico in inglese perché a livello internazionale lo si dice, in questa specie di esperanto obbligatorio che è in inglese, riconoscono a noi una sorta di ancient art of well living, arte antica, millenaria di vivere bene, perché ci viene riconosciuto un Italian way to happiness, una via italiana alla felicità. E di che cosa è fatta? Allora, non vi dico le mie opinioni. cosa dicono gli italiani che, seppur diminuiti, 29%, adesso 30%, da qualche tempo dicono di essere molto felici. Quali sono le dieci cose, ambiti di esperienza, che fanno parte di questa specie di ricetta italiana della felicità? Una sorta di gastronomia dello spirito, per così dire. Quali sono gli ingredienti? Primo, dopo tanti e giusti discorsi sulla tecnologia, il più vicino. Più vicino vuol dire, certo, migliaia di amici o decine di migliaia di amici su Facebook, certo, il mondo globalizzato è reso immediatamente disponibile e oggi anche portabile, con gli smartphones, con i tablets, non c'è più bisogno del tavolo per il computer. Quindi un universo che si è allargato, e però la felicità è legata di più che in passato al vicino. Pochi familiari in quanto cari, non in quanto familiari necessariamente, non tutti i familiari sono cari, pochi amici veri, la propria comunità locale o professionale, il rione, l'ospedale, la scuola per chi ci lavora, più vicino. Si allargano gli orizzonti, ma la felicità è legata a una sorta di rimpicciolimento del perimetro. E questo è legato molto a quella sensazione di perdita di controllo, per cui viceversa, se io controllo un territorio piccolo, lo domino meglio o meno ansia. Il secondo elemento, tipicamente italiano, all'estero ne sono tutti convinti, è la relazionalità. Una felicità che non è legata all'io, ma è legata a noi. È legata agli rapporti che ciascuno di noi, se ne è capace, instaura con gli altri. Una relazionalità estroversa. All'estero aggiungerebbero gesticolante. È la cosa che dicono subito degli italiani. Due cose dicono, perché ho fatto ricerche internazionali. Gli italiani gesticolano e dieci persone, se sei incerto ad un incrocio, corrono e ti vogliono spiegare, senza sapere l'inglese e nessun'altra lingua, qual è la strada. Purtroppo i tedeschi aggiungono che le dieci indicazioni sono contraddittorie tra di loro. Ma con i tedeschi, i tedeschi hanno nei nostri confronti lo stesso rapporto che i politici italiani hanno nei confronti della signora Merkel, da cui pure tutti vanno a pacche sulle spalle. Non basta la relazione, ma anche il calore. Il calore. Il calore. Qualcuno dirà il sesso. Sì. Gli italiani sostengono nella crisi di avere fatto più all'amore. Forse anche perché è attività gratuite, e in genere, voglio dire, non mi occupo di marketing della prostituzione, quindi piacevole e gratuita, easy, disposable e portabile, anch'essa. Ma a parte il sesso, parlo di amore, parlo specialmente di emozioni. Lo dico col titolo di una canzone vecchia della nostra tradizione, che è molto identificata con gli italiani, lo stereotipo e gli italiani all'estero, ma è anche parte importante della nostra way to happiness, della nostra arte antica. Anima e core. Anima e core. Quindi, attenzione, abbiamo sentito cose meravigliose. Sono stato colpito dalla relazione dell'astrofisico, adesso dell'oncologo, eccetera. Ovviamente la razionalità e con essa la tecnologia hanno avuto e avranno un peso essenziale per lo sviluppo. non si vive di solo poesia, ma si vive anche di poesia. Anima e core. Poi, nella relazionalità un punto chiave, quello che personalmente poi a me piace di più, che è il prefisso co. Quello della fare le cose insieme. Un tema che avete visto è già stato evocato più volte. Cooperare, condividere, colloquiare e così via. Vedete, nelle momenti di crisi, per un motivo in più, ed è che siccome nei momenti di crisi l'erta della vita diventa più scoscesa, la vita è più faticosa, beh, come voi sapete, se siete stati in montagna anche solo a camminare, non dico a scalare, si scala meglio in gruppo e si scala meglio legati con una corda. Si perde di velocità, perché si va alla velocità del membro più... una cosa di cui ho piena consapevolezza, perché essendo grasso fin da piccolo, sono sempre stato l'ultimo, no? Però, 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 restare incordata vuol dire salire con più sicurezza e qualche volta con più chiacchiere magari canti, anche se ti manca il fiato, in montagna, e non parlo del cioccolato Novi, in cui la relazione è a due, peraltro. Allora, come voi sapete, comunque... Poi una cosa che vi sorprenderà, ragazze e ragazzi, i valori. Noi abbiamo una percezione di barbarizzazione della nostra vita collettiva, di materialismo, di consumismo, tutti questi ismi. Invece non è così, eh. Guardate che le ricerche che noi conduciamo mostrano che, nel fuoco della crisi, la gente è adatto più importante agli ideali, agli aspetti immateriali. Certo, anche perché non si pagano. Cioè, sono fuori dal circuito monetario, dal circuito economico, commerciale. Ma la gente si rende conto che, per essere felici, conviene, è proprio utile avere dei valori. dei valori che vanno al di là dell'esperienza quotidiana, che per definizione sono condivisi con altri, non esistono valori individuali per un sociologo, per un antropologo, e che fanno una cosa importante, ci fanno da bussola. E cioè, ci aiutano a fare una delle cose che dà più felicità, che è trovare un senso nella vita. Senso è una parola bellissima, che vuol dire tante cose, vuol dire anche vomito, mi fa senso, ma specialmente vuol dire direzione e significato. Sono le due cose che noi umani cerchiamo, e questa è la vera differenza rispetto agli animali, oltre a dire bugie complesse e a saper pensare alla nostra morte, i veri elementi di istinzione rispetto anche agli animali più evoluti. Noi cerchiamo, a volte troviamo, e quando troviamo siamo felici, un senso. Badate, una direzione verso cui muoversi e che in genere è una meta che non raggiungeremo. E un impegno che si attiva, che non è detto porti a risultati, ma comunque conta il viaggio. Conta il viaggio. Il muoversi dà a, anche senza mai raggiungere. E questo aiuta moltissimo. Poi certo, il modello italiano comprende quello che in inglese si chiama bliss, che forse tradotto vorrei dire beatitudine, ma che noi di solito negli studi sulla felicità indichiamo come la capacità che noi italiani abbiamo fortemente, quando manca la grande felicità, per esempio perché c'è stato un lutto terribile, perché si è perso un amore, una persona cara, il lavoro, la sicurezza, eccetera, la capacità che noi abbiamo di ricercare le gocce di felicità. Non una condizione integralmente felice, ma degli attimi di felicità. la musica che esce da una finestra aperta e che ci emoziona o ci ricorda qualcosa, il sorriso di un bambino, la bellezza di un monumento, il calore della preghiera. Ognuno sceglie e testimonia quello che vuole. Siamo verso la fine. Un altro punto è importante, la cultura dell'abbastanza. Mirare a molto, ma accontentarsi di abbastanza. Un punto chiave, perché non è vero, per esempio diventando sempre più ricchi si diventa più felice. Le ricerche in tutto il mondo mostrano che la povertà è un ottimo modo per essere infelici, aiuta molto a essere infelici, la grande ricchezza no. Basta arrivare ad un certo livello e sapere accontentarsi. e poi è stato detto il bello, la bellezza felicità, è stato in parte detto il dono, aiutare gli altri aiuta chi aiuta. Donare aiuta il donante, non meno che il donato. E poi, per finire, sognare. Sognare, che vuol dire con curiosità anche illudersi. Allora concludo raccontando il concetto di sogno in una storiellina, che è quella di un topolino, intendo proprio un bambino topolino, che vede in cielo un pipistrello. Animale orrendo, senza offesa, e specialmente pericoloso, perché si nutre di topi, specialmente di topolini. Eppure, malgrado questo, questo vuol dire sognare, il topolino, parlando con sua mamma, dice, è la fine dell'Italian Way to Happiness, mamma guarda un angelo. Grazie. Devo leggere quello che metto lì. Spero che apprezzerete che è un messaggio situazionale. Io ne avevo scritto un altro, ho finto, e ringrazio l'organizzazione, di aver perso il primo, perché ne ho fatto un altro alla luce di quello che ho sentito. e il mio coso recita dal criceto triste, vi ricordate quello di Fabio Cleto, triste, alla gallina felice. Voi direte, perché la gallina? Ragazze e ragazze. Co, 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 co. Colloquiare, condividere, costruire, cooperare. Grazie.